Il drago afferra la mamma di Jack e la lancia verso la strega. La strega la vede e dice Ora ti prendo e ti rinchiudo nelle segrete del castello. Ha paura. E la getta nelle segrete del castello e chiude a chiave. Jack sente sua mamma gridare No! Jack, aiuto! Poi si mette a correre, a correre, a correre, a correre per salvare sua mamma. Avanti, è ora di dormire. Ma amore mio, non devi aver paura, va bene? Eh? Lo sai perché? Perché le storie finiscono sempre, sempre, sempre bene. Capito? Sogni d'oro. Buonanotte.